Teresa Zotta, municipio 15, zona Cassia, Cesano e dintorni, uno dei più grandi municipi di Roma. Ebbene, dietro alla sede del municipio di via Flaminia, a breve probabilmente costruiranno. E costruiranno in un'area, che è nell'area di via Vitorchiano, dove esiste il secondo sito archeologico, secondo dopo la Piantica. Un tesoro inestimabile. C'è il vecchio tracciato della via Flaminia, c'è la tomba del gladiatore, la cosiddetta tomba del gladiatore, che si pensa sia il gladiatore del famoso film. Ebbene, dopo anni di lotta, con il governo PD, probabilmente, sicuramente, costruiranno. Non è valso a nulla insistere. Il risultato è che la cementificazione a Roma è sovrana, con tutto quello che ne consegue.